Grazie. Asqua, ho messo il tuo numero, ma non mi ha la possibilità non toccare, non apriamo noi dopo, non è? Oggi se lo devi aprire e ti sopporto. Ma non te lo puoi. Sono un po' di muscoli. Ma dov'essere? Dov'è Orassio? E' un po' di muscoli. 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 Ci mani nemmeno solo in mano. Allora io direi, non ci mani, non ci mani avviene. E' un po' di muscoli. Dopo me la vediamo la camera. Non è bella vediamo la camera. Ma non mi ha detto la camera. Maltiamo i giocenti, perché ti per che ademo a stare, eccetera La faccia la fisi. Ma ne vediamo la camera. Sì, è un po'. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.